bella a tutti i miei slani qui al bentornati nel mio canale eccoci qui con un nuovo video e vi ricordate quello sulla top 3 dei rapper americani per il 2021 benissimo vi avevo anche chiesto se vi sarebbe potuto interessare una versione estesa a 10 rapper ed essenzialmente è quello di cui parleremo oggi rispetto a quello però c'è qualche differenza la prima è la più importante è che questa non è una top 10 va vista più come una lista di nomi che personalmente oltre a piacermi tanto dal punto di vista musicale in un certo senso ci punto tanto e l'altra differenza è che non sono nomi che per forza blow up erano nel 2021 gran parte di questi secondo me lo faranno ma in generale sono più che altro rapper da tenere d'occhio perché secondo me meritano molto ormai sapete che uno degli obiettivi di questo canale è far conoscere musica sia io a voi che magari voi a me motivo per il quale mi piacerebbe molto se anche voi scriveste una lista di 10 nomi o comunque se non ne avete 10 5 3 quanti ne volete dire perché secondo voi meritano molto e che dovrei conoscere partire subito con il primo che non è il primo ma ormai l'avete capito è The Tusi conosciuto anche meglio come King Tusi classe 2000 nato a New York verso i 13 anni si trasferisce nel North Carolina ed è qui che comincia il suo percorso musicale inizia a fare sul serio nel 2017 droppando i primi progetti su suncloud nel 2019 firma un contratto con South Coast Music Group label che tra gli altri artisti gestisce anche da baby dopo la firma esce il suo primo progetto ufficiale hoodet dove già possiamo cominciare a apprezzare il suo stile molto incentrato sullo storytelling parla del dolore che ha subito in passato con una voce molto particolare e secondo me bella che gli consente di alternare il rap a ritornelli molto orecchiabili nonostante la giovane età ha già diversi progetti droppati alle spalle dopo hoodet esce platinum earth con annessa deluxe edition entrambi uscite nel 2020 anno in cui uscirà anche poetic pain il suo ultimo album li trovo tutti discreti e su un ottimo livello quindi nel caso in cui voleste incominciare ad ascoltare lui potete cominciare un po da dove volete comunque per rendervi le cose un po più facili ho anche fatto una playlist in cui trovate tutte le canzoni che più mi sono piaciute di questi giovani artisti e non solo la trovate in descrizione assieme a tutti gli altri link passiamo così al secondo push hasty classe 99 di memphis suo padre aveva una label ed era anche un rapper quindi comincia a bazzicare negli studi musicali già da piccolo inizia a fare musica a 18 anni e il suo primo singolo è intitolato hell night featuring big 30 suo amico sin dai tempi della scuola nonché un suo socio con cui collabora tuttora inizia così a droppare singolo dopo singolo tra i più importanti sicuramente c'è da ricordare main slime traccia che verrà anche remixata da money bag yo e take it riesce ad attirare anche l'attenzione di un certo gucci main che più o meno l'anno scorso proprio di questo periodo decide di offrirgli un contratto musicale con la sua etichetta ed è qui che piano piano comincia il blow up di push hasty a luglio esce so icy summer un progetto interamente diretto da gucci main con cui dà la possibilità a tutto il suo roster di mettersi alla prova inutile dire che push hasty è uno di quelli che ha brillato di più ad ottobre esce so icy gang volume 2 un altro progetto di gruppo in cui lo troviamo in diverse canzoni e a novembre possiamo dire che blow up definitivamente esce back in blood featuring leader la sua hit di maggior successo traccia che poi viene estratta da shysty season il suo tape commerciale di debutto uscito il 5 febbraio 2021 composto da 17 tracce è uno dei progetti che quest'anno mi è piaciuto di più probabilmente finisce dritto in top 3 fino ad ora e riesce ad esprimere il suo stile al meglio molto aggressivo con un flow che definirei unico arriviamo così al terzo nome di watkins nato il 7 agosto 98 in florida quando ho scoperto questo ragazzo sono rimasto sorpreso da quanto fosse forte ma allo stesso tempo sconosciuto inizia a postare i suoi primi video su facebook alquanto insolito se ci pensate e man mano che andava acquisendo fama comincia a farlo anche su youtube nel 2018 droppa i primi singoli ufficiali alcuni di questi vengono condivisi sui social della sniper gang nel 2019 esce badass git il suo singolo tuttora più di successo durante quest'anno droppa anche problem child il suo primo lavoro ufficiale è anche lui come molti rapper segue questa corrente di storytelling dolore struggle e di parlare in generale di tutto quello che hanno passato nella sua musica troviamo anche molto l'influenza di rapper come kodak black lil wayne young boy e young thug nel 2020 droppa due album e un ep in ordine cronologico chosen one poi arriva problem child 2 tuttora il mio suo progetto preferito vi consiglio di recuperarlo per finire con e si am un ep di 6 tracce in cui tre fit troviamo anche hot boy arriviamo così al rapper numero 4 buca six under probabilmente il più vecchio tra questi classe 95 membro di otf nonché gran amico di lil dirk e nella scena underground drill di chicago è abbastanza conosciuto tuttavia a livello mainstream è praticamente il contrario in questi anni ha preso molto territorio ma facendo un genere come la drill molto crudo non ha tantissimi ascoltatori ex membro dei black dice apple del set 600 ed è proprio da qui che nasce il suo nome la sua carriera ufficialmente inizia nel 2016 ma è solo nel 2018 che arriva six summer il suo primo progetto ufficiale da qui in poi comincerà a fare sul serio è presente in in ogni lavoro targato otf ad oggi sono quattro album e nel 2019 arriva il suo secondo album personale world 2 la in questo caso e lei non sta a indicare la città ma è lei capone una leggenda per quanto riguarda la drill a chicago purtroppo deceduta come penso molti di voi sapranno amico è ex membro del set 600 e black dice apple proprio come buca arriviamo così al quinto e sesto posto 30 deep grimy e mwm c murda non sono un vero e proprio duo ma allo stesso tempo sono gran amici nonché collaboratori frequenti quindi ho deciso di parlarne insieme non ho tantissime notizie su di loro quindi cercherò di dirvi tutto quello che so 30 deep a 23 anni classe 97 ed è nato a st louis nel mississuri così come c murda entrambi molto legati alla street life 30 deep a 17 anni finisce in prigione mentre il padre di c murda è stato dentro per 11 anni lo stesso murda ha detto in un'intervista di essere stato sparato cinque volte questo giusto per capire il background di questi due ragazzi nel 2019 esce splash brothers il loro primo joint tape nonché primo lavoro per entrambi un album molto bello che mi è piaciuto tanto in cui entrambi i rapper dimostrano quello che sanno fare un po tutto in realtà troviamo canzoni dal no melody alla west coast alcune influenzate dalla trappola drill e non mancano neanche i pezzi chill o love nel 2020 escono i rispettivi tape solisti di entrambi gli artisti per quanto riguarda 30 deep abbiamo grimy to society un album al quinterno troviamo anche diversi fitti importanti come lil baby and lì choppa maxo cream e l'immancabile c murda invece di quest'ultimo esce murder's eve wrote un album al quinterno troviamo con metazine hot boy e addirittura tre feet di 30 d arriviamo così al numero 7 so fego se avete sentito parlare di lui al 99 per cento è perché trevis scott qualche mese fa ha deciso di prenderlo con sé in cactus jack se uno come lui ha deciso di puntare su questo ragazzo vorrà dire che qualcosa di speciale effettivamente ce l'ha classe 2001 viene da atlanta e tra le sue più grandi influenze musicali troviamo chris brown e drake che da piccolo si pompava parecchio soprattutto il primo che a tutti gli effetti è un idolo per il rapper nonostante la giovane età ha diversi progetti droppati tre nel dettaglio è un ep war il suo album di debutto angelic 7 in cui è contenuta knock knock la sua più grande hit tuttora prodotta da liltecca web che come dicevo è un ep di cinque tracce e after me il più recente una cosa che accomuna tutti questi progetti oltre la breve durata più o meno 7 10 tracce è che nessuno di questi presenta fit lo stesso so fego ha detto in intervista che gli piace lavorare la propria musica da solo ma che nonostante questo in futuro non mancheranno i fit per sonorità lo paragonerei a rapper come karty ma anche lo stesso lansi fox anche se non è proprio quel genere di roba lui la fa un po diversa questo ovviamente ve lo dico nel caso in cui vi voleste fare un'idea sul suo stile arriviamo così al posto numero 8 slat zy scusate ma questo non so minimamente come si possa pronunciare se lo sapete correggetemi l'ho scoperto grazie a qualcuno di voi non mi ricordo chi ci tengo a ringraziarlo perché mi ha fatto scoprire veramente un rapper forte classe 2002 probabilmente il più piccolo della lista è nato nel tennessee vi butto subito una piccola curiosità riguardo lui ha 11 fratelli e sorelle quando l'ho scoperto non ci credevo tra 2019 e 2020 droppa una serie di singoli con cui inizia anche a farsi conoscere è il 24 aprile arriva il suo primo progetto ufficiale zy story la pronuncia sempre da prendere con le pinze tra l'altro il progetto che mi avevano consigliato inizialmente e tuttora non mi ha fatto impazzire in realtà perché ho visto molto potenziale ma secondo me è venuto un progetto un po troppo pesante sempre lo stesso anno a novembre esce east lake project il suo secondo album che dire se il primo non mi aveva convinto di questo me ne sono completamente innamorato c'è il giusto bilanciamento tra tutto riesce a mischiare bene vari mood e tra l'altro tra i fit troviamo anche qualche nome importante ovvero push hasty e hot boy arriviamo così al numero 9 tutu gis sarò sincero non ci sarebbe dovuto essere in questa classifica non perché non lo reputo un emergente forte anzi mi piace tantissimo ma perché lo vedevo come un nome forse un po troppo up per questa classifica però poi ho pensato che avevo messo push hasty non sapevo chi mettere allora ho detto mettiamo tutu gis classe 97 originario di brooklyn new york e così come molti suoi colleghi fa drill e aggiungerei che ora come ora è uno dei più grandi esponenti di questo genere per come la vedo io vi dirò di più il titolo dire di new york se lo contendono lui e fabi inizia a farsi conoscere con suburban un singolo uscito nel 2016 prodotto da axel beat produttore inglese ad oggi viene considerata una delle canzoni più iconiche di questo movimento nonché uno dei pezzi che poi ha gettato le basi per il crescere l'affermarsi di questa way i riflettori sono tutti puntati su di lui e tra le persone che lo notano troviamo anche kodak black che decide di offrirgli un contratto con la sua sniper gang nel 2018 uno dei primi singoli che esce per la label è spin the block traccia che banta il fit proprio di kodak e vi consiglio assolutamente di ascoltarla questa canzone poi farà parte di the blicky tape uscito nel 2019 il suo tape d'esordio nel 2020 invece esce growth and development il suo secondo mixtape totalmente prodotto da gosti altro producer inglese è che dire per me è uno dei progetti più belli e interessanti dello scorso anno il 19 marzo 2021 esce the blicky tape 2 nonostante personalmente non lo ritengo allo stesso livello di growth and development è comunque un discreto progetto che non fa altro che confermare che con la morte di pop non è morta anche la drilla new york boom senti che flow arriviamo così alla posizione numero 10 spodem gadem del 2001 nato a jackson in florida comincia a rappare seguendo l'esempio dei propri zii e tra le sue più grandi influenze troviamo chief kiff a 15 anni viene arrestato insieme ad un suo amico dopo aver cercato di rubare una macchina si pensa anche che ci sia una terza persona perché a 15 anni teoricamente non puoi neanche guidare comincia a far musica attorno al 2018 droppando i primi video su youtube nel 2020 esce osama story il suo primo lavoro nonché un piccolo ep di quattro tracce un mese dopo circa esce beatbox la sua hit per eccellenza con la quale poi diventerà anche abbastanza virale a parte la canzone che comunque ritengo molto valida va viral soprattutto per il balletto che viene imitato ovunque sfruttando soprattutto social come tiktok il 18 dicembre esce final destination il suo primo progetto ufficiale composto da 11 tracce al cui interno troviamo anche un remix di beatbox featuring push hasty non è l'unico però perché più avanti ne usciranno anche altri sicuramente da menzionare uno di da baby e uno di mulatto questa era la mia lista di 10 rapper che secondo me dovreste conoscere innanzitutto vi chiedo di commentare con la vostra puoi di scrivermi quello che ne pensate di questi 10 rapper se qualcuno già lo conoscevate se con qualcuno ci state già in fissa e via dicendo se il video vi è piaciuto mi invito ovviamente a lasciare un mi piace nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale se lo siete già attivate la campanellina condividete questo video con quanta più gente volete e potete noi ci vediamo ad un prossimo slat ciao 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 ciao